Questo è un momento di grande difficoltà per la nostra nazione, un momento in cui è necessaria la massima responsabilità di ognuno di noi per non rendere anni i sacrifici di tutti. Invito, pertanto, tutti coloro che stanno tornando a Micosia da altre regioni a comunicarlo tempestivamente ai numeri telefonici istituzionali e al proprio medico di famiglia. Invito, tra l'altro, Costoro ad osservare un periodo di quarantena volontaria, 14 giorni a casa. Sarà, forse, fastidioso, ma servirà a tutelare la loro salute, quella dei propri familiari e della comunità. Invito gli anziani, essendo loro soggetti più deboli al rischio, a uscire solo in caso di necessità e comunque a evitare ambienti appollati. Invito i nostri giovani a comportamenti responsabili, e cioè ad evitare assembramenti in luoghi pubblici e privati. Sono sicuro che ci sforzeranno di farlo. Invito tutti i cittadini a seguire le norme delle mie precedenti ordinanze, e soprattutto a seguire le norme igieniche di prevenzione. Tutto con grande responsabilità e senza panico. Io e la mia amministrazione saremo sempre presenti per qualsiasi necessità della comunità. Un caro saluto a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.